Qualche tempo fa abbiamo riflettuto su un tema dal titolo Il creditore e il debitore, siccome c'erano ancora alcune riflessioni residue vorrei oggi proporvele. Leggiamo nel libro di Giosuè, al capitolo 1, ma prima di leggere questo brano della parola del Signore, se vi ricordate creditore e debitore, l'atteggiamento che possiamo avere noi di fronte agli altri, di fronte alla vita in generale, quella di sentirci creditori, vale a dire che qualcuno ci deve dare qualcosa, gli altri in generale ci devono dare qualcosa, oppure sentirci noi debitori, cioè in debito nei confronti del mondo nel quale il Signore ci ha posti, che ci circonda. Quindi noi possiamo avere questi due atteggiamenti. Abbiamo visto che la Chiesa in modo particolare, essendo il corpo di Cristo, costituito da diverse membra collegate fra di loro, queste membra, come dice l'Apostolo Paolo, io sono debitore ai greci come ai giudei, agli barbari come ai savi, e quindi queste membra sono debitrici le une verso le altre. E quindi c'è un debito che solitamente caratterizza i figli di Dio, che non è un debito che pesa, ma è un debito gioioso, la consapevolezza che il Signore ci ha arricchiti perché noi possiamo essere a nostra volta di benedizione per coloro che il Signore mette sul nostro cammino, sulla nostra via. Ecco, detto questo leggiamo Giosuè, capitolo 1, dal versetto 3 al versetto 9. Giosuè, capitolo 1, versetto 3, fino al versetto 9. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do come ho detto a Mosè, dal deserto al Libano, che vedi là, sino al gran fiume, il fiume Ofrate, tutto il paese degli Ittei, sino al mare grande, verso occidente, quello sarà il vostro territorio. Nessuno ti potrà stare a tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte, fatti animo, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dare ad essi. Solo sii forte, fatti risolutamente animo, avendo cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, finché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si riparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho io comandato, sii forte, fatti animo, non ti spaventare e non ti sgomentare, perché l'Eterno e il tuo Dio sarà con te ovunque tu andrai. Amen. Allora questa parola del Signore, cosa ci sta a dire? Che il Signore è un donatore. Guardate, quando leggiamo tutta la parola del Signore vediamo che Dio ama donare. Come un padre desidera donare ai suoi figli, così Dio è donatore nei nostri confronti. Egli ama fare dei doni ai suoi figlioli e il dono per eccellenza è quello del suo amato figliolo. Il testo che leggiamo spesso di Romani capitolo 8 dice se ci ha donato Cristo come non ci donerà ogni altra cosa insieme con questo. Un altro testo che è luminoso su questo fatto dice se voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figlioli, quanto più, dice il padre vostro che ne cieli darà egli cose buone a coloro che le domandano. Tante volte anche quando preghiamo e quando cerchiamo la faccia del Signore spesso siamo malinfluenzati dalla nostra carne, dal nostro dubbio, dalla nostra incredulità e quindi molto spesso la preghiera può essere una forma di conflitto proprio ispirata da un Dio che vediamo avverso. Ma Dio dice se voi mi chiedete un pane e mi chiedete veramente un pane io non vi do una pietra, se mi chiedete un uovo non vi do uno scorpione, ma voi che siete malvagi pure sapete dare cose buone quanto più io posso darvi cose buone. Allora Dio in questo caso voleva donare una terra fertile e c'era una promessa specifica del Signore come noi abbiamo in tutta la parola di Dio delle promesse specifiche. Le promesse sono per i credenti, le promesse sono le benedizioni, le promesse sono le ricchezze che il Signore ci dà nella sua parola ed è una cosa meravigliosa davanti alla quale mi sento così piccolo, così in vergogna perché spesso nel mio cuore c'è un malvagio cuore incredulo, quello di cui parla l'epistola agli ebrei. Invece di credere lasciamo spazio al dubbio, al nemico delle anime nostre ed è lui ad informarci e a farci vedere un Dio adirato che invece assolutamente non vuole farci dei doni. Ma Dio è donatore e proprio per questo egli ha fatto delle promesse. Diciamo che questi doni sono legati a delle promesse e quindi senza fede giustamente è impossibile piacere a Dio perché chi si accosta a Dio deve credere che Dio è e che egli è il remuneratore, quindi vuol dire che egli dona, perché remunera, ripaga coloro che credono in lui. Allora come entrare in possesso dei doni e quindi delle promesse? In questo caso il Signore aveva promesso una terra fertile, una terra buona, una terra come dice la scrittura dove scorre il latte il miele, ma era una promessa e il popolo doveva entrarne in possesso. Allora la domanda che possiamo porci è come entrare in possesso delle promesse di Dio? Attraverso un esercito, in questo caso, forte? No. Ma vediamo che quando il popolo andò a Gerico per espugnare questa città fortificata, la espugnò non con l'esercito ma con la fede, facendo una cosa che gli uomini possono reputare ridicola ma ubbidendo e attenendosi alle parole del Signore, alle promesse del Signore. Allora per questo il Signore dice io vi ho fatto delle promesse, queste promesse sono i miei doni per voi. E come potete entrare in possesso di questa terra? E allora a Giosuè che era il condottiero del popolo in quel momento storico dice guarda io sarò con te e questa è la cosa fondamentale, io sarò con te, io non ti abbandonerò. Fatti animo, non seguire i tuoi dubbi, le tue paure, credi alla parola e trionferai, credi alle mie promesse e canterai. Fatti animo, sii forte, confida non in quello che ti sussurra e suggerisce la tua carne ma vivi nel mio cielo. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca. Questo è il primo ingrediente fondamentale, la parola di Dio. Ora sapete che i farisei avevano completamente travisato il senso e il significato di questa parola allungando le frange, scrivendo i versetti e allora li riportavano alla loro memoria. Di per sé come metodo può essere anche buono ma quello che il Signore reputa buono è l'atteggiamento del nostro cuore, non è tanto quello che facciamo. Allora, questo libro non si diparta mai dalla tua bocca ma meditalo, meditalo, giorno e notte. E questo fatto è importante, non si diparta mai dalla tua bocca. Io penso proprio che questa sia una cosa fondamentale. E io come diceva quando mi raccontava questa testimonianza, quando sono in macchina accendo lo stereo. Devo dire la verità, a chi non fa piacere mentre sei in macchina a sentire un po' di musica, ti rilassa, no? E io vedo che la mia carne lotta, impigrisce e mentre sono in macchina vorrebbe farmi pensare ad altro. Costantemente la mia carne propone delle altre cose, o pensieri o preoccupazioni. Naturalmente siamo portati verso le cose della nostra carne, i nostri pensieri, i nostri problemi, le nostre preoccupazioni, i nostri paure, le nostre paure, i nostri timori. Allora dice questa parola non si riparta mai dalla tua bocca. Attenzione, dalla bocca. Proprio anche parlare, pronunciare la parola del Signore in modo tale che l'orecchio la senta e ritorni nel cuore questa parola. È un atto di fede, non è un metodo. Perché il Signore dice che Lui vuol vedere la fede nel nostro cuore. Non è una questione di fare le cose così a ripetizione perché la legge dice di farlo. No, non è una questione di legge. Ma Signore io mi fido della tua parola. Come Mosè si fidò quando costruì l'arca, la fece secondo il modello stabilito da Dio. Allora anche qui questa parola dice non si riparta mai dalla tua bocca. Non te ne sviare né a destra né a sinistra. Vuol dire non piegare né da una parte né dall'altra pensando ai tuoi pensieri, alle tue idee o a destra o a sinistra. Ci sono sempre le tentazioni dell'uomo di addomesticare la parola, di renderla comprensibile, di renderla digeribile e quindi appetibile secondo l'uomo. Dice no, non te ne sviare. Onorala questa parola. Non siamo noi che dobbiamo sorreggere la parola, ma è la parola che sorregge noi. Non siamo noi a dare qualcosa al Signore, ma è il Signore che dà a noi. Allora non te ne sviare vuol dire questo. Credi che questa parola è potente. Credi che è sufficiente, che non ha bisogno delle palafitte dell'uomo, ma sta in piedi da sola. Allora medita la giorno e notte, non te ne sviare, avendo cura di metterla in pratica. Non basta che nel nostro cuore ci sia solo il desiderio di leggere la parola, ma che ci sia il desiderio di dire, Signore, che questa parola come un seme di vita diventi pianta e che la pianta pozzuga di frutti. Qual è il seminatore che dopo aver seminato? Dice, ah, ho seminato, ho fatto il mio mestiere. Dice, ah, ho seminato. Ma molte volte si dice qualcosa. Se l'hai fatto? Sì, l'ho fatto. E il risultato? Ah beh, ma io l'ho fatto. Poi il risultato? No. Dice, tu l'hai fatto? Aspetta, come il seminatore aspetta, che questo seme, cerca che questo seme produca frutto. Stai davanti a Dio dopo la tua meditazione. Invocalo, cercalo, chiedi gli, Signore, trasformami, cambiami, modifica il mio cuore, modifica la mia vita. Permea tutti i meandri del mio cuore, della mia vita, e dai a loro la forma e il contenuto che a te piacciono. Questo, avendo cura. D'altra parte, se ci giungesse la notizia che abbiamo ereditato qualcosa, allora ci telefona il parentesi, dice, guarda, allora è morta quella persona, hai ereditato? Sì, c'è una casa, poi dopo c'è vicino una stalla, poi guarda, un pezzettino di terra, diciamo, 30 ettari. Dice, ti mandiamo però presto una lettera. Noi riceviamo la lettera, meditiamo la lettera, e poi dopo chiaramente andiamo a cercare, con cura, proprio di capire, cos'è nostro. Con cura. E la stessa cosa, non solo leggere, ma con la stessa cura, andare a vedere quello che è nostro, andare a inventariare quello che è nostro, per dire, Signore, lo voglio, lo desidero. Noi siamo spesso portati a leggere, poi, ah, Signore, ti ringrazio, che bella ora che ho passato, che belle due ore, e poi a fuggire via. Ma così non faremmo se ricevessimo una informazione relativa a un'eredità, ma la leggeremmo con cura. E poi dopo, come purtroppo spesso succede, si si rivolge anche a diavocati, perché quello è mio, quello è mio, no? E come esigeremmo? E come vorremmo? Allora, queste promesse sono per noi, questi doni sono per noi. Dice il Signore, ma troverò io la fede, troverò io la cura, l'attenzione, la stessa che gli uomini dedicano alle loro cose, nel cercare di poter avere, io che ho fatto le promesse, io che ho fatto i doni. Dice allora, questa parola non si diparta mai, non te ne sviare dalla tua bocca, al tuo cuore, non te ne sviare a destra, non si dita, abbi cura di metterla in pratica, e allora qual è l'effetto, il risultato? Allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Questo è soltanto l'anello finale della catena, noi diciamo, ma come mai il Signore? Ma molto spesso dobbiamo chiederci, cosa non ha funzionato in tutto quello che Dio ha fatto per me, nella mia vita, nel mio cuore. E io vedo proprio che è così. Allora riuscirai, attenzione, non dici a fare una bella preghiera, in tutte le tue imprese, allora prospererai. Il concetto di prosperità sta proprio a significare il concetto di ricchezza, di benessere, di crescita, di emancipazione, di sviluppo, di benessere, a tutti i livelli, allora prospererai. Beata, dice quella nazione, il cui Dio è l'eterno, e che ha nel cuore il desiderio. Io vedo che i popoli crescono, poi crollano, anche le aziende crescono e poi crollano, dicevo l'altro giorno a qualcuno, dico, guarda, tutto dipende da come noi stiamo davanti a Dio. Perché Lui è l'autore, Lui è l'artefice dei nostri giorni. Se Lui ci vuole fare impoverire, anche se tu ti dai un da fare da matti, ti fa impoverire. Se Lui ti vuole far arricchire, Lui ti fa arricchire. Se tu stai davanti a Lui, nel modo che Lui gradisce, cercando la sua faccia, cercando il suo cuore, Dio, che vede, te ne darà la ricompensa. La ricompensa. Egli vede e conosce lo stato del tuo cuore. Sa se veramente il tuo vivere con Lui è un bisogno imperioso della tua anima oppure se è semplicemente un dovere fra tanti. Allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora, dice, prospererai. E questa è solo questa la condizione che fa di noi degli uomini che hanno dei debiti nei confronti degli altri. Viceversa, tutto è un peso. Viceversa, tutto è un problema. Ma se abbiamo ricevuto, cioè la parola ha prodotto questo risultato, ci ha fatto prosperare in modo del tutto gratuito, perché non abbiamo fatto nulla per poter avere quello che abbiamo ottenuto, se veramente il Signore ci fa prosperare, se veramente Lui è al timone, alla guida della nostra vita, allora automaticamente noi siamo debitori a tutti gli uomini. leggiamo in Prima Tessalonicesi capitolo 1 dal versetto 6. Prima Tessalonicesi capitolo 1 versetto 6. L'Apostolo Paolo in questi versetti che ora leggiamo elogia in qualche modo i credenti di Tessalonica per la loro fede, per la loro esperienza col Signore dicendo queste parole. Prima Tessalonicesi capitolo 1 versetto 6. E voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte afflizioni, con allegrezza dello Spirito Santo, talché siete diventati un esempio a tutti i credenti della Macedonia e della Caia, poiché da voi la parola del Signore ha echeggiato non soltanto nella Macedonia e nella Caia, ma la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, talché non abbiamo bisogno di parlarne, poiché egli e noi stessi raccontano di noi quale sia stata la nostra venuta tra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire all'idio vivente vero e per aspettare dai cieli il suo figliuolo, il quale egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira a venire. Cosa dice l'Apostolo ai Tessalonicesi? Avete ricevuto la parola dice in mezzo a molte afflizioni, cioè avete ricevuto questa parola come un seme di vita e eravate veramente nelle grandi afflizioni, ma l'avete ricevuta con allegrezza, cioè questa parola è diventata la vostra gioia, la vostra meditazione quotidiana, è diventata la vostra ricchezza, perché questo, la parola come è ricevuta? È desiderata, è bramata, è voluta, è ricercata e non sto parlando di quanto tempo leggiamo, ma sto parlando del bisogno del nostro cuore, è amata. Io sento un'aridità tante volte dentro di me, questa aridità urla e oramai so per esperienza che tutte le mie aridità, tutti i miei ruggiti hanno bisogno della parola, come entra la parola entra il benessere, come entra la parola entra la luce e c'è chiarore. C'è un problema in casa, c'è un problema nel lavoro, c'è un problema nella chiesa, cerca la parola del Signore, la sua faccia, come arriva la parola, la parola porta con sé chiarezza, luminosità, bellezza, quella che noi non abbiamo per natura, perché siamo distorti, siamo continuamente confusi e abbiamo bisogno della parola. Non è che il Signore ha bisogno che io legga la parola, sono io che ho bisogno della parola, sono io che ho bisogno della parola. Attenzione, la parola la può utilizzare solo lo Spirito Santo, ci dice Efesini capitolo 6, lo Spirito brandisce, cioè impugna e usa la parola. La spada dello Spirito è la parola, il che vuol dire che il soggetto, l'utilizzatore, è lo Spirito Santo. Questo è importante. Allora, quando leggiamo la parola Signore, Tu che hai il potere di aprire il mio cuore, la mia mente, per farmi intendere, vieni con la Tua parola, parla, perché il Tuo servitore, come dice il piccolo Samuele, vuole ascoltare perché la Tua parola si concretizzi nel mio cuore, nella mia vita. È questo l'atteggiamento, non si tratta semplicemente di leggere, di fare una meditazione o uno studio, ma di dire Signore, cambiami, trasformami, modificami, non mi piaccio, ho bisogno proprio di Te. Allora, quindi se avete ricevuto la parola in mezzo a molte afflizioni e vi siete convertiti, oggi neanche si parla più di conversione. Si frequenta la Chiesa? Sì, allora è un credente, non è vero. Non è vero. La conversione che cos'è? È il cambiamento prodotto, prima c'era soltanto la terra, entra il seme, spunta il seme, c'è una pianta che prima non c'era, ci sono dei colori, qualcosa che prima non c'era, ci sono dei frutti, vi siete convertiti dai vostri idoli, cioè dalle vostre passioni, da quello che riempiva in modo esclusivo prima la vostra vita, dai vostri idoli a Dio, per servire il Signore e per aspettare dal cielo il suo figliolo. E siete così, facendo, siete diventati un esempio per tutti i credenti che sono in Macedonia, in Acaia e la parola da voi ha echeggiato non soltanto nella Macedonia e nella Acaia ma la vostra fede si è sparsa in ogni luogo, prosperità, ricchezza, benessere, fertilità, prosperità e ricchezza, non è questione di vedere quello che non va come fa il creditore, ah, non c'è questo, non c'è quello, non vedo questo, non vedo l'altro, ma è questa prosperità che il Signore cerca nella nostra vita e qual è la causa di questo cambiamento? Leggiamo sempre in Prima Tessalonicesi capitolo 2 versetto 13 Per questa ragione anche noi rendiamo del continuo grazie a Dio perché quando riceveste da noi la parola della predicazione, cioè la parola di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini ma quale essa è veramente come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Allora, qual è la causa di questo cambiamento, di questa fama dei Tessalonicesi nel loro tempo, di questa prosperità, di questa fede che si era sparsa perché dice quando riceveste la parola, la parola di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini ma quale essa è veramente come parola di Dio, la quale dice opera efficacemente in voi che la credete. Questa parola è efficace, cioè raggiunge lo scopo, produce veramente quello che afferma, non è semplicemente una parola vana ma questa parola è sì ed amen, quello che afferma si realizza, quello che ci dice questa parola veramente si realizza. Allora, quando la riceveste voi l'accettaste così, come una parola che trasforma, che cambia e questo è fondamentale se non ci sono di questi cambiamenti nel mio cuore, nella mia vita, non si muove nulla, non c'è niente. Allora, ma qual è il discorso più caro che fa normalmente il creditore? La Bibbia dice che tu mi devi amare oppure le persone in generale, no? Dice, ma ah, voi non fate questo, questo, allora, no, 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 tu mi devi, tu devi far questo, devi far quello, devi far l'altro e normalmente quando si dice tu mi devi amare vuol proprio dire che tu mi devi dare proprio perché io sono povero. Poiché sono povero e siccome non c'è amore nel mio cuore tu mi devi dare, tu mi devi amare. il solo quando nel mio cuore c'è il desiderio, c'è la critica perché non vedo l'amore ad esempio il problema non sono gli altri il problema sono io il problema sono io perché se non vedo l'amore sono io che non vedo per me l'amore siccome noi siamo essenzialmente egoisti se noi abbiamo l'amore dentro di noi noi siamo uomini e donne soddisfatti appagati ma è proprio quando c'è povertà nel mio cuore che allora cerco disperatamente l'amore attorno a me per questo abbiamo letto tu prospererai c'è questa parola le persone vanno a scioperare in piazza e innalzano cartelli e suonano i rulli di tamburi perché gli manca qualcosa o stanno per perdere qualcosa come ad esempio il lavoro e allora c'è baccano c'è rumore e così molto spesso la nostra vita produce un rumore ma semplicemente perché ci manca qualcosa che a volte questa mancanza si può trasformare anche in attivismo perché no anche quello è un rumore se non è un'opera di Dio e vi sto parlando delle mie esperienze non sto pensando a voi quante volte ho rumoreggiato nei confronti di situazioni di fatti dentro di me lo dice anche Asaf nel Salmo 73 finché dice non sono entrato nel tuo tempio alla tua presenza davanti a un mondo che si lamenta perché manca qualcosa i figlioli di Dio gloria al Signore possono dire io prospero e ora vedremo perché io prospero questa è la nostra testimonianza nel mondo in un mondo che si lamenta che fa sciopero che urla che grida perché quello che dice Job proprio nel libro di Job al capitolo 35 dice si levano lamenti gridano da tutte le parti ma nessuno dice dov'è Dio colui che concede canti di gioia nella notte il problema è questo quando vedo qualcosa che manca è che manca a me non è un problema degli altri non è un problema di mia moglie che non è sensibile o dei miei figli o del mio datore di lavoro o del mio fratello il problema siamo onesti sono io non sono gli altri questo è quello che afferma la parola del Signore oppure non c'è amore ma quello che non vedo in me automaticamente non lo vedo negli altri quello che non vedo in me torno a ripetere non lo vedo neanche negli altri se in me non c'è l'amore state tranquilli che non vedo l'amore neanche negli altri la mia capacità di vedere negli altri è subordinata allo stato del mio cuore oppure qui c'è carnalità quante volte io l'ho detto e confesso il mio peccato quante volte entrando in un posto o nell'altro che carnalità che c'è la carnalità invece che vedo in me la vedo anche negli altri e sono queste le equazioni del Signore quello che non vedo in me non lo vedo neanche negli altri quello che vedo in me di cattivo lo vedo anche in tutti gli altri la carnalità che vedo in me la vedo anche gli altri allora queste sono le tre situazioni nelle quali noi ci veniamo a trovare e dobbiamo dire misero me uomo chi mi trarrà da questo corpo di morte il Signore ha fatto tutto per fare di noi delle persone vittoriose tutte queste comunque affermazioni denotano in tutti i modi un comune denominatore che è uno stato di bisogno del nostro cuore e queste affermazioni sono il risultato del nostro rapporto col Signore che non è appagante e che non è all'insegna della passione e dell'amore questo quando il Signore dice non te ne sviare né a destra né a sinistra ma guardate quante quante cose il maligno mette nella nostra vita per farci sviare passioni desideri in casa fuori di casa stupidaggini anche tante volte che ci prendono il cuore e che rendono la parola priva di efficacia di forza la parola è lì è potente capace di trasformarci ma non riesce a farlo cioè non cambia tante volte noi diciamo il mio carattere è questo il mio temperamento è questo e no ma il Signore ti può controllare ti può trasformare ti può cambiare e Lui si fermerà dove tu gli impedisci di poter andare oltre ma quante volte io vedo questa lotta dentro di me e a volte mi lamento reagisco e poi dico Signore cambiami trasformami dal punto in cui sono arrivato cambiami trasformami io che sono improntato al giudizio io che sono improntato a a vedere le cose sempre in una maniera cambiami trasformami rendimi prospero fai che il mio deserto sia trasformato dalla tua parola e diventi un giardino di frutti perché vedete l'altra cosa è questa che tutti sono felici di andare a fare una passeggiata in un giardino pieno di frutti con alberi con tanti colori e con tanti sapori e con tanti odori ma se noi siamo un deserto dove non ci sono colori ma è tutto monocromatico allora chiaramente non c'è molta attrattiva e pensavo mentre pensavo a queste cose pensavo a un esempio immaginate che un giovane ha finito di studiare conosce una ragazza se ne innamora ed è ricambiato da questa ragazza e nasce un rapporto gioioso le aspettative del suo cuore qual era? poter conoscere una ragazza e poter vivere un rapporto gioioso d'amore di stima di affetto e poi cosa succede? ah che bello ho trovato questa ragazza ci amiamo ci vogliamo bene poi vorrebbero sposarsi questi due giovani ma questo giovane c'è difficoltà a trovare lavoro non trova lavoro ma un giorno viene chiamato da un'azienda fa il colloquio alla fine del colloquio la persona che ha fatto il colloquio gli dice guarda il lavoro è tuo hai il lavoro questa persona esce fuori felice ah ho una ragazza vorrei sposarmi finalmente ho il lavoro ora si possono coronare i miei sogni ma va alla fermata dell'autobus c'è sempre una fermata dell'autobus nelle storie va alla fermata dell'autobus e incontra un suo amico di studi dice come ti va? allora l'altro che ha incontrato l'amico gli fa è uno schifo questa società è uno schifo e lui fa perché? perché? perché guarda dice ma eri insieme con quella ragazza no dice ma che mi ha tradito si è messa con un altro c'è sempre un altro si è messa con un altro fa è uno schifo guarda come si può trovare una ragazza e lui lo guarda così fa è uno schifo un disastro e dice e col lavoro come va? anche tu dopo abbiamo finito di studiare cosa hai fatto? ma è uno schifo dice ho fatto delle domande ma è un disastro se non si trova lavoro ho fatto per un po' di tempo un lavoretto ma un lavoretto schifoso al di sotto delle mie aspettative è un disastro dice e a te come ti va? e dice guarda io grazie a Dio ho trovato una ragazza che riempie la mia vita di gioia sono appena fatto un colloquio mi hanno assunto ora devo cercare una casa ma mi posso sposare posso coronare la mia vita qual è la differenza fra questi due ragazzi? io ho solo una risposta la loro esperienza uno è triste in base alla sua esperienza si lamenta si lamenta del mondo intero del lavoro delle persone di tutto e porterà sempre con sé questa lamentela che vada in un ambiente o nell'altro sarà una persona che si lamenta infatti le persone anche in generale da un punto di vista umano che possono fare un qualche bene in qualunque contesto dipende da quello che hanno dentro non da quello che hanno qui e allora questa persona si lamenta e si lamenterà sempre sarà sempre conflittuale perché c'era la lamentela nella sua esperienza è una esperienza non appagante certamente nel mondo si sarà anche per lui un lavoro certamente nel mondo si sarà anche per lui una ragazza ma la sua esperienza è un'esperienza fallimentare allora è la loro esperienza il primo aveva vissuto un'esperienza vittoriosa e gioiosa e portava gioia quando parlava il secondo aveva un'esperienza dolorosa e portava dolore e noi quando parliamo e quando viviamo portiamo con noi il nostro contributo o di dolore o di successo di vita di bellezza di gloria questo è il nostro debito se abbiamo in noi un'esperienza di vita e di vittoria quali sono le motivazioni che fanno un debitore e un creditore uno abbiamo visto era un creditore il mondo non mi dà quello che io voglio le ragazze non mi danno quello che io voglio e l'altro invece portava la sua la sua ricchezza il debitore vive un'esperienza ricca e prospera con il signore vive una relazione che produce in lui senso di debito proprio perché ha ricevuto gratuitamente dal signore tutto quello che riguarda la sua vita è un dono immeritato e guardate se siamo onesti dobbiamo dire che quando ci svegliamo al mattino ci corichiamo la sera ogni giorno che il signore ci dona è un dono di dio i cibi che mangiamo la salute che abbiamo non so se vi capita anche a voi certamente io sento spesso di morti cruente improvvise e dico che cos'è la vita ogni giorno che il signore si dà da vivere e non dipende da quanti giorni è morto quanti anni aveva 98 anni spesso si sente di persone che anche vanno oltre i cent'anni allora non è la quantità di giorni ma è la qualità dei nostri giorni il vivere tutti i giorni che uno vada a fare lo spazzino che uno vada a fare un'altra cosa credetemi non sono le cose che facciamo che ci rendono felici ma è quello che siamo e con chi siamo quando siamo col signore siamo con lui e la sua parola ha prodotto veramente l'effetto del nostro cuore noi siamo felici il signore dice io verrò con te non ti lascerò non ti abbandonerò e la mia presenza ti darà pace farà di te un uomo vittorioso tu prospererai noi dobbiamo aspettarci perché Dio non mente prosperità non povertà non miseria e non mi sto riferendo al fatto di avere un lauto conto in banca non è questo il punto prosperità personale prosperità il signore vuole renderci uomini e donne che discernono che hanno la sapienza nel cuore nella mente e che sanno intendere che sanno discernere il luogo di un mondo fatuo che non conosce niente che è ottuso ma il signore vuole veramente abitare e possedere interamente i nostri cuori allora quando noi riceviamo da parte del signore quando veramente la nostra vita è un serbatoio che riceve realmente ma che riceve realmente i beni e le benignità del signore noi guardiamo il mondo e diciamo io che ho ricevuto tutto in modo immeritato desidero che anche altri possano conoscere sperimentare quello che io ho ricevuto gratuitamente ora vorrei leggere con voi un passo importante nella parola del signore che ci parla proprio di questo andiamo seconda re capitolo 7 seconda re capitolo 7 dal versetto 1 qui ci sono tre personaggi che hanno tre figure diciamo che hanno tre reazioni nei confronti dei doni del signore allora non abbiamo il tempo per leggere tutta la parola del signore tutto il brano che abbiamo qui davanti a noi ma vi anticipo questo solo per perché il contesto sia più chiaro Samaria era stata assediata dai siri i siri l'avevano assediata e la strategia come nel caso di Saint-Akerib era la stessa vale a dire circoscrivere un territorio una città in modo da portare alla fame quelli che erano assediati quelli che erano costretti a rimanere dentro nella città perché a un certo punto mancavano i viveri mancava l'acqua e quindi il popolo moriva di fame e chi veniva fuori veniva ucciso quindi l'alternativa era morire di fame quando eri assediato oppure uscire e trovare la morte perché fuori c'era il tuo nemico in questo caso i nemici sono i siri e il territorio assediato è quello di Samaria allora leggiamo dal versetto 1 seconda re abbiamo detto capitolo 7 versetto 1 allora Eliseo disse ascoltate la parola dell'eterno così dice l'eterno domani a quest'ora alla porta di Samaria la misura di un fior di farina si avrà per un ciclo e le due misure d'orzo si avranno per un ciclo ma il capitano sul cui braccio il re si appoggiava rispose all'uomo di Dio ecco anche se l'eterno facesse delle finestre nel cielo potrebbe mai avvenire una cosa si fatta Eliseo rispose ebbene lo vedrai con gli occhi tuoi ma non ne mangerai ora vi erano quattro lebrosi presso all'entrata della porta il tutto si svolge proprio all'entrata della porta i quali dissero tra loro perché vogliamo noi restare qui finché moriamo se diciamo entriamo in città in città c'è la fame e noi vi morremo se restiamo qui morremo lo stesso ora dunque venite andiamoci a buttare nel campo dei siri se ci lasciano vivere vivremo se ci danno la morte morremo e sull'imbronire si mossero per andare al campo dei siri e come furono giunti all'estremità del campo dei siri ecco non vi era alcuno il signore aveva fatto udire nel campo dei siri un rumore di carri un rumore di cavalli un rumore di grande esercito sì che i siri avevano detto fra di loro ecco il re di israele ha soldato contro di noi gli ittei i re degli egiziani perché vengono ad assalirci e si erano levati ed erano fuggiti sull'imbronire abbandonando le tende i cavalli i loro asini e il loro campo così com'era erano fuggiti per salvarsi la vita quei lebrosi giunti che furono all'estremità del campo entrarono in una tenda mangiarono bevero e portarono via l'argento oro vesti e andarono a nascondere ogni cosa poi tornarono entrarono in un'altra tenda e anche di là portarono via la roba che andarono a nascondere ma poi dissero fra di loro noi non facciamo bene questo è un giorno di buone novelle e noi ci tacciamo se aspettiamo finché si faccia giorno saremo tenuti colpevoli fin qui tenuti per colpevoli vedete c'era la povertà c'era la miseria e il popolo era assediato e come dicevo in città si moriva e fuori c'era il nemico ma l'uomo di Dio il profeta del Signore Eliseo aveva detto ascoltate la parola dell'Eterno ascoltate la parola di Dio e crederete credete ai Suoi profeti e trionferete ascoltate il primo versetto la parola dell'Eterno domani a quest'ora alla porta di San Maria le cose si venderanno per il loro prezzo corrente in sostanza non è come oggi perché manca il cibo e allora la reazione del capitano quale fu? era un credente evidentemente diceva l'Eterno dovrebbe aprire i cieli e dovrebbe venire giù tanta benedizione tanto benessere ma altrimenti come facciamo? è impossibile e questi lebrosi erano lebrosi erano scarto della società tutti si allontanavano da un lebroso questi lebrosi fanno un ragionamento molto semplice andiamo e vediamo andarono e siccome il Signore aveva operato secondo la parola di Dio il come Dio opera noi non lo sappiamo che lo faccia con un sogno come ha fatto col re Nebuchadnezzar che lo faccia in una maniera o nell'altra ma Dio ha dei modi impensabili di operare non dobbiamo capire i modi di Dio Dio sa come e quando dove operare sa come muovere le situazioni non gli mancano i mezzi allora il Signore aveva fatto in una certa maniera per cui questi si erano spaventati erano fuggiti aveva fatto sentire un rumore reale quelli lebrosi arrivarono a questo punto nel campo e cosa trovarono davanti a sé? un campo che gratuitamente era lì pieno di beni e di benignità entrarono in una tenda mangiarono presero delle vesti poi dice andiamo anche in un'altra tenda c'era solo l'imbarazzo della scelta entrare in queste tende mangiare e prendere le vesti e tutte le ricchezze mangiarono bevero presero l'argento presero l'oro e poi a un certo punto dissero noi non facciamo bene perché questo è un giorno di buone novelle e se noi tacciamo in questo giorno se noi teniamo per noi queste ricchezze questi tesori noi saremo reputati per colpevoli perché a un certo punto erano lebrosi malati erano i primi a entrare in possesso di tutte queste ricchezze e perché a un certo punto dissero divennero debitori perché veramente avevano realizzato che tutto era stato dato loro gratuitamente perché tutto quello che era avvenuto in questo fatto in questi eventi era un dono di Dio gratuito e loro gratuitamente ne beneficiavano in modo totalmente immeritato dice noi siamo debitori dissero e saremo reputati colpevoli se non informiamo anche gli altri era un fatto che stavano morendo di fame ma questa esperienza questo diventare ricchi in modo gratuito li rese automaticamente debitori vediamo quale fu la reazione del re perché loro informarono i lebrosi informarono tutti e praticamente la notizia fu conosciuta da tutti allora i guardiani chiamarono e fessero sapere la cosa alla gente del re dentro il palazzo e il re si levò nella notte e disse ai suoi servi vi voglio dire io quello che ci hanno fatto tutti i siri sanno che patiamo la fame sono quindi usciti dal campo a nascondersi per la campagna dicendo come usciranno dalla città li prenderemo vivi ed entreremo nella città allora c'erano le promesse c'erano le benedizioni c'erano dei lebrosi che ne entrano in possesso e qui vediamo il perché tante volte anche noi non entriamo in possesso siamo troppo intelligenti questo re era troppo intelligente come ricevete la notizia guarda che certi lebrosi ci hanno riferito che fuori là nell'accampamento dei siri non c'è più il nemico e possiamo mangiare possiamo godere il re rimase povero se dipendeva da lui perché era troppo intelligente troppo elucubrazioni troppe riflessioni e poi andiamo a vedere l'altro personaggio sempre capitolo 7 versetti 16 e 17 allora il popolo uscì fuori e saccheggiò il campo dei siri e una misura di fior di farina si ebbe per un ciclo e due misure d'orzo per un ciclo secondo la parola dell'eterno il re aveva affidato la guardia della porta al capitano sul cui braccio si appoggiava ma questo capitano fu calpestato dalla folla presso la porta e morì così come aveva detto Eliseo l'uomo di Dio quando aveva parlato al re che era sceso a trovarlo vedete quest'altro invece era un incredulo quest'altro uomo era un incredulo e non entrò in possesso dei doni del Signore la promessa c'era i doni erano reali ma uno era troppo intelligente l'altro era troppo incredulo e questi sono i problemi della nostra vita se siamo onesti dobbiamo dire Signore abbi pietà di noi l'uomo naturale è una creatura insoddisfatta una creatura incredula troppo intelligente troppo forte troppo potente per poter ricevere gratuitamente attenzione diventiamo debitori solo ed esclusivamente se riceviamo gratuitamente perché se abbiamo fatto qualcosa solo qualcosa una piccola cosa e ci attribuiamo i meriti allora siamo fra gli uomini più spettati sulla faccia della terra siamo come quello a cui erano stati rimessi diecimila a cui era stato condonato tutto quindi doveva essere un debitore nei confronti di tutti gli uomini che invece è andato dice trovando un suo debitore lo prendeva e lo strangolava fa tu mi devi dare cosa gli doveva dare 100 quando a lui era stato donato diecimila allora è soltanto quando i doni di Dio veramente diventano una realtà nella nostra vita che noi siamo come questi lebrosi andiamo e diciamo è tutta una grazia del Signore venite anche voi nutritevi anche voi come dice Isaia 55 mangiate bevete gratuitamente abbiamo ricevuto allora la nostra vita veramente si schiude la luce c'è benessere c'è prosperità e automaticamente siamo debitori nei confronti di uno e dell'altro diciamo guarda quel fratello quanto è carnale come posso fare il culto insieme con lui bene tu che hai ricevuto tanto saprai trarre fuori dalla tua vita i beni e le benignità che servono al tuo fratello carnale perché tu gli possa far del bene e perché attraverso di te il Signore possa spandere come nel caso di questi lebrosi prosperità e benessere che il Signore ci benedica amén grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti